buonasera ben ritrovati a una nuova puntata di angoli come sempre vi ricordo la mail per comunicare con la redazione del programma angoli chiocciolespansionetv.it mi raccomando scriveteci e adesso vado subito a presentare l'ospite di questa sera Stefano Cotone viaggiatore di professione e fotografo buonasera Stefano buonasera senti possiamo darci del tu io mi sono letto un po i tuoi libri e mi posso forse permettere questa confidenza perché davvero attraverso i tuoi occhi si viaggia assieme a te grazie allora il libro che sei venuto a raccontarci si intitola ti racconto l'india eccolo qua un libro fotografico in realtà è scritto come una specie di racconto tu ti rivolge a tuo figlio e ti rivolgi proprio lui e gli racconto le mie esperienze su questo pianeta parte che è l'india pianeta parte rapportata a tutta l'umanità che c'è su questo pianeta ecco l'india è proprio un mondo un mondo a sé quello che racconto in realtà sono impressioni che poi ho raccolto da fino a quando ero ragazzo perché io appartengo e ho l'età purtroppo appartengo a quella generazione che andava in india via terra negli anni 70 e per noi era un mondo speciale l'india facevamo qualcosa come 8 mila chilometri e con i mezzi più improponibili attraverso tutta la turchia l'iran l'afghanistan il pakistan per raggiungere quella agognata frontiera e lì effettivamente si apriva un mondo che noi potevamo confrontare solamente con i racconti che leggevamo ma era un'epoca in cui non c'erano ancora le guide e purtroppo neanche le mappe per raggiungere questo questo paese e da allora io ho continuato ad andarci ovviamente adesso non più via terra perché purtroppo la situazione politica non è più la stessa di quella di tanti anni fa e quindi sono paesi che io visito a macchia di leopardo non so andare in turchia andare in iran ma non più raggiungere l'india via terra però ripeto continuo ad andarci con il mezzo più comune che appunto è l'aereo e l'india che racconto lì dentro è un confronto tra quella che ho visto io e quella che ho visto crescere quella che ho vista allora e quella che ho visto crescere negli anni soprattutto a partire dagli anni 90 in poi vedere come questo paese continua a modificarsi pur rimanendo ancorato a delle leggi naturali ad una tradizione di fede di comportamenti che non ha pari nel resto degli altri paesi che pure conosco come altri paesi in Indocina o in Sud America Sembra un po' il percorso inverso che ha fatto Tiziano Terzani nel 93 con quel libro Un indovino mi disse per cui insomma sostanzialmente lì la storia che era una profezia li vietava di prendere nel 93 i voli aerei e un po' mi sembra di capire che il tuo tentativo stavolta sull'India sia proprio quello al contrario di ricordare come un periodo felice come un periodo felice nel senso dell'acquisizione di conoscenza, di dati, di pensieri che negli anni poi sono maturati producendo quel volume lì però è vero quello che hai detto, ho fatto il lavoro all'inverso peraltro il tuo libro ti racconto l'India va a braccetto con invece ho lasciato il cuore in Indocina sì, sono due libri gemelli perché anche l'Indocina sebbene io l'abbia scoperta qualche anno dopo l'India appunto quando non era più possibile raggiungere l'India via terra e allora volo per volo ho cominciato a frequentare l'Indocina dalla Birmania fino al Vietnam e l'Indocina è anche lì è una raccolta non solo di pensieri ma anche di interviste, di narrazioni che mi hanno fatto delle persone alle quali ho chiesto delle cose per avere una visione un pochino più chiara di tutto ciò che è successo in quella terra non dimentichiamo che l'Indocina è stata una terra estremamente tormentata io continuo a chiamarla Indocina anche se in realtà poi hanno dei nomi ben precisi si chiamano Birmania, si chiamano Laos, Cambogia, Thailandia, Malesia e Vietnam ha avuto una storia molto complessa e molto tormentata a causa delle guerre che adesso fortunatamente non ci sono più e l'evoluzione che è avvenuta in quei luoghi lì è stata di proporzioni colossali sebbene anche lì un tratto del comportamento rimane ancora estremamente legato alla tradizione buddista e quindi non è contaminato al 100% dalle influenze occidentali anche se apparentemente sono paesi che si muovono sulla falsa riga dell'Occidente Sì infatti, ma tu che hai attraversato questi paesi ne hai visto un po' anche l'evoluzione cosa cerchi di catturare tutte le volte che torni? anzi possiamo dirlo perché poi in realtà proprio a breve ritornerai in Vietnam ecco, con che spirito parti? Io mi confronto con un'umanità che apparentemente è diversa e cerco, spero, di cogliere questa diversità e come dicevo prima l'ancoraggio che li tiene stavo per dire inchiodati, un termine brutto ma per me è positivo a dei valori tradizionali, al costume, al modo di porsi e quello che per me è fonte di curiosità quello che mi suscita parecchia curiosità è proprio l'atteggiamento delle persone al di là dell'aspetto monumentale più o meno vasto che c'è perché nel caso dell'Indocina Ancor è probabilmente uno dei siti più vasti e più complessi che esistono sul pianeta ed è un sito hindu buddista ma al di là della monumentalità anche nel caso della Birmania di Pagan e il comportamento delle persone e scopro che ci sono dei valori di base che sono assolutamente costanti sia che io mi trovi in Gabon, in Africa, sia che io mi trovi in Ecuador, sulle Ande e sia che mi trovi in Indocina su questa infrastruttura diciamo di base si sovrappongono modelli più o meno importati frutto di contaminazioni religiose, di contaminazioni culturali ma che non sempre prendono integralmente lo spazio di questa intellettualità delle persone le lasciano, usando un termine corrente diciamo che tutta la sovrastruttura lascia in pace quelli che sono i valori di fondo di queste persone qui e che scopro alla fine essere uguali anche ai nostri anche se molto polverosi e spesso coperti da una sovrastruttura che non ci consente più di riconoscerli questi valori Senti, attraverso i libri tu appunto ti poni come interlocutore tuo figlio cosa vorresti comunicargli? Perché ti rivolgi proprio a lui? Perché mi rivolgo ad una generazione che non ha avuto l'entusiasmo e la fortuna che ho avuto io e non sempre per causa loro parlo di mio figlio come di tanti altri certamente la guerra in Afghanistan è stata drammatica sotto questo aspetto e io tante volte mi sono chiesto anche contattando queste persone mi capitava giusto in Iran non molto tempo fa mi sono chiesto se non ci fosse stata quella guerra cosa sarebbe cambiato nell'orizzonte della nostra gioventù delle nostre persone di quelli che hanno attualmente 20, 30, anche 40 anni perché un conto è prendere un volo e raggiungere Bangkok o Kuala Lumpur non importa cosa un conto è percorrere quella strada lì e vedere la luna che cresce o decresce lungo un percorso che dura migliaia di chilometri vedere come cambia la cultura alimentare come si veste la gente e come ci tiene a vestirsi con dei costumi tradizionali come sono fatte le case qual è l'architettura ecco tutto questo questa generazione la generazione che ha seguito me non l'ha più vista oggi nessuno sono pochissime comunque non fanno certamente una società oggi nessuno si mette su un percorso di 10.000 chilometri di 5.000 che sia perché non ha il tempo quindi non fa altro che volare in quel posto lì raccogliere a volte anche delle impressioni solamente superficiali o quando tali non sono certamente raccoglie delle bollicine di quel grande mare di schiuma di cui è composto quel territorio lì e questo è un peccato è qualcosa che loro non hanno o se vogliamo che hanno perso io mi auguro che i confini si possono riaprire che le strade possono essere ancora libere perché c'è della gente che aspetta e che probabilmente ha tanta voglia come l'abbiamo avuta noi in quegli anni di percorrere queste strade benissimo io intanto ti ringrazio per essere stato con noi questa sera Stefano Stefano Cotone viaggiatore e fotografo di professione mi auguro che vorrai tornare a raccontarci del tuo viaggio in Vietnam partirei proprio tra pochi giorni sì infatti io parto domani mattina perfetto allora anche se il Vietnam l'ho lasciato nel mese di agosto comunque stavolta vado al nord del Vietnam e nel Laos intanto ricordo il cuore in Indocina e ti racconto l'India grazie mille per essere stato con noi e adesso con Angoli ci separiamo per qualche istante di pubblicità ma come sempre torniamo tra poco grazie mille per la vita